Buongiorno a tutti, eccoci qui, qui siamo a San Basilio, l'ennesimo sfratto. No alla repressione dei popoli volontari, la legge della signora Meloni, presidente del Consiglio, che vuole avere 9 anni di carcere a tutti gli occupanti. Purtroppo noi non possiamo permetterci, come lei, di poter pagare un affitto di più di 1000 euro al mese oltre le bollette. Quindi il 15 aprile, alle ore 17 qui a San Basilio, ci sarà un corteo proprio no contro gli sfratti che ci devono mettere, vogliamo pagare le bollette, vogliamo essere affittuari, ma non possiamo buttare altre famiglie in mezzo alla strada. La signora Meloni ha una bellissima casa, prende quasi 30.000 euro di stipendio, si può permettere anche le ville, ma noi purtroppo proletari non abbiamo fatica anche ad andare avanti, a poter pagare le bollette che sono stradissime, lei pensa alla guerra, non pensa a noi popolo. Quindi signori, presentatevi tutti al nostro corteo, amici miei di Facebook, chi mi conosce e chi non mi conosce, questo è quello che accade non solo a San Basilio, ma a tutte le borgate di Roma. Vi aspetto.